Ciao ragazzi, oggi vi parlo di quali sono le applicazioni che uso qua in Cina, quelle più utilizzate e quelle che sono sul mio telefono. Il mio telefono è un Redmi Note 8, me lo chiedete sempre, se trovo il link lo lascio in descrizione. Chi vive in Cina probabilmente le conosce già tutte, chi non c'è mai stato penso possa comunque essere un video interessante. La prima applicazione è Alipay, Alipay è una piattaforma di pagamento del gruppo di Alibaba Group, infatti Alibaba Pay Alipay. Viene usata principalmente per i pagamenti, per pagare online e questa è l'app che ha permesso alla Cina di diventare cashless. Avrete sicuramente visto in qualche mio video precedente che pago sempre con il telefono dovunque andiamo. Per esempio quando vai al supermercato, fai la spesa, prendi quello che devi e poi paghi con il telefono. Vai al bar, prendi un caffè, paghi con il telefono, dunque si paga con il telefono qui. Questa è una delle due applicazioni che ha permesso alla Cina di diventare cashless appunto. Funziona in modo molto semplice, bisogna avere una carta di credito cinese, la si inserisce all'interno di Alipay e poi Alipay detrà i soldi direttamente dal conto corrente. Di recente hanno anche dato la possibilità di inserire carte non cinesi per facilitare la vita ai turisti che quando vengono molte volte non sanno come pagare perché molti posti in Cina non accettano le carte di credito straniere ma accettano solo quelle cinesi. Tra l'altro molti posti qua a Shanghai non accettano neanche i contanti quindi senza Alipay è impossibile pagare. All'interno di questa app c'è veramente di tutto. Si possono anche fare investimenti con questa applicazione, si possono comprare i biglietti del cinema, i biglietti dell'aereo, del treno, si può ordinare da mangiare, si può ordinare un taxi. Praticamente questa applicazione racchiude un sacco di altre applicazioni ed è veramente un'applicazione pazzesca. Sicuramente questa applicazione ha bisogno di un suo video a parte perché ha veramente tantissime funzioni e se stessi qua a dirvele tutte non finiremmo più. Poi abbiamo Taobao. Taobao la possiamo definire come l'Amazon della Cina ma in realtà è molto di più di Amazon. Ha una varietà e delle funzioni che non sono minimamente paragonabili a quelle di Amazon. Taobao viene usata principalmente per fare shopping, per comprare prodotti. Ci sono prodotti di abbigliamento, scarpe, accessori, all'elettronica, alle fotocamere, si possono anche prendere dei pacchetti di viaggio, si può ordinare la spesa. Si può acquistare veramente di tutto all'interno di Taobao. Io ho fatto fare anche delle business card per esempio. Ho fatto io il design, ho inviato le foto e hanno stampato poi sul tipo di carta, puoi anche scegliere che tipo di carta vuoi. Oppure trovi anche chi ti fa direttamente il design della business card. C'è veramente di tutto, qualunque cosa si può acquistare su questa applicazione. All'interno c'è anche un'altra applicazione che è per i prodotti di seconda mano, i prodotti usati. All'interno di questa applicazione ogni venditore ha il suo store e ha un servizio clienti 24 ore su 24. Se hai bisogno di alcune informazioni gli chiedi, per esempio, secondo te che taglia devo prendere di questa maglietta? E gli dici peso 70 kg, sono alto 2 metri, che taglia devo prendere? E loro ti rispondono, ti aiutano con la scelta. In più hanno anche una funzione di live streaming. Ci sono degli store che fanno le dirette tutti i giorni per mostrare i nuovi capi di abbigliamento. Ti dicono guarda questo lo indossi così, lo abbini con queste scarpe, lo lavi in questo modo. Questa cosa aiuta moltissimo i clienti cinesi ad acquistare un prodotto su questa piattaforma. Il pagamento si fa con l'app di cui ho parlato prima, che è Alipay. In pratica c'è da una parte il venditore, dall'altra ci sei tu e Alipay si mette in mezzo in modo che tiene i soldi, così che se il tuo prodotto ha qualche difetto lo rispedisci e Alipay ti rinvia i soldi. Alipay è un'applicazione che si sta in mezzo tra il venditore ed il cliente. Anche Taobao, che possiamo un po' paragonarlo o definirlo l'Amazon della Cina, ha bisogno di un video a parte perché ci sarebbe veramente tantissimo da dire su questa applicazione. Poi abbiamo WeChat. WeChat è l'equivalente di Whatsapp, Facebook e Instagram messi insieme. È usata principalmente per le chat, per chattare, ma ci sono funzioni del tipo anche dello scambio di soldi. Ci sono queste buste rosse in Cina, che si chiamano Hongbao, che sono letteralmente delle buste rosse elettroniche, però all'interno delle quali si inseriscono dei soldi. Faccio un esempio, io chatto con la mia ragazza, le voglio inviare dei soldi, gli invio questa busta rossa e lei apre e riceve dei soldi. Magari invio 10 yuan, 20 yuan, 100 yuan, lei basta che clicca, apre e riceve dei soldi. Questa applicazione viene anche utilizzata per pagare. All'interno ha una funzione chiamata WeChat Pay, che funziona come Alipay, c'è un QR code o si scannerizza un QR code e poi si paga direttamente lo store, il negozio, il bar. E anche su WeChat Pay c'è bisogno di un conto corrente cinese da inserire per pagare. Grazie a WeChat Pay ed Alipay la Cina è diventata completamente cashless. Poi abbiamo delle applicazioni per ordinare il cibo, che sono Mate One e Elma. Elma vuol dire letteralmente hai fame. Appena le apri puoi scrivere quello che vuoi, che non so, vuoi i ravioli, scrivi i ravioli e trovi tutti gli store più vicini o più lontani con le varie recensioni. Poi abbiamo Didi, che sarebbe l'Uber della Cina e funziona in modo molto semplice, per ordinare i taxi non c'è molto da dire. Anche su questa applicazione però il pagamento viene effettuato con Alipay o WeChat Pay. Poi abbiamo una delle mie applicazioni preferite, che è TikTok. TikTok in Cina si chiama Douyin. Douyin. Io non ho mai visto TikTok come sia all'estero. So che molti mi dicono che fanno solo i balletti e che è un'applicazione molto stupida. Ma secondo me è un pochino sottovalutata, perché in Cina c'è già da tanto, c'è già da diversi anni e i contenuti sono un pochino più avanzati. Sono sempre corti, ma io ho visto gente che fa i tutorial, io seguo certi tutorial su TikTok. C'è gente che parla di business, c'è veramente di tutto. Il TikTok in Cina mi piace veramente tanto perché si trova veramente di tutto. Per dirvi ci sono anche i monaci Shaolin del tempio Shaolin che fanno i loro TikTok e sono pazzeschi. C'è sempre qualcuno di voi che mi chiede qual è il mio TikTok. Vi lascio qua il numero anche se non lo uso molto il TikTok cinese. Però magari prima o poi inizierò a fare contenuti anche in cinese. Comunque sia il TikTok cinese, anche questa applicazione ha bisogno di un video a parte perché c'è tanto da dire anche su questa applicazione. Poi non possono mancare le VPN, ne ho già parlato in video precedenti. Io utilizzo AstralVPN, ExpressVPN, che sapete che in Cina Facebook, Instagram, eccetera sono tutti bloccati, sono inaccessibili. Quindi bisogna utilizzare una VPN. Le due VPN che uso io sono sempre in descrizione con la prova gratuita. Abbiamo Baidu Maps e Amap, che sarebbe un navigatore o delle mappe. Scordatevi Google Maps perché in Cina non funziona, va male, quindi bisogna utilizzare le mappe cinesi. Idem con i traduttori. Abbiamo Baidu Translate e Plico. Lasciate perdere Google Translate in Cina perché secondo me la traduzione che fa dall'italiano o dall'inglese al cinese non è accurata, mentre quella di Baidu Translate è molto più accurata. Poi abbiamo Plico, Plico serve anche per scrivere i caratteri a mano. Non lo so, vedi un carattere per strada, non sai come si pronuncia, lo scrivi proprio a mano con il dito su Plico e Plico ti dice che cosa significa, come si legge e tutto il resto. È un'applicazione molto utile anche per studiare il cinese. Passiamo ai viaggi. Per i viaggi per il cinese sono principalmente tre o quattro. Una è Trip.com che io uso spesso anche per fare viaggi in Asia. Poi c'è Feiju, Feiju è un'applicazione cinese sempre per i viaggi e funzionano tutte allo stesso modo. Poi c'è Chuna, che vuol dire dove vai. E queste sono quelle più utilizzate per i viaggi in pratica. L'app per la metro, per pagare la metro come si entra, perché in metro qua in Cina ci sono due opzioni. O ti fai la tessera e ricarichi la tessera direttamente, poi la strisci ogni volta che entri. Oppure usi il telefono come al solito per pagare. Lo si può fare direttamente con Alipay, la prima applicazione di cui ho parlato. Oppure io utilizzo un'altra app per comodità, si chiama Metro Dadohui. Dadohui vuol dire metro che può fare tutto praticamente. Come entri, devi accendere il bluetooth, si esce questo QR code, scannerizzi, poi l'applicazione è connessa ad Alipay e scala i soldi direttamente da Alipay. Recente uso anche molte app per le lezioni online. Ne ho parlato in un altro video, però velocemente sono Superstar, WeChat Work, Tencent Meeting. Queste tre più o meno sono quelle che utilizzo per le lezioni online. Tutto qua ragazzi, queste sono alcune delle applicazioni più utilizzate qua in Cina. Sono quelle che utilizzo sempre io, quasi ogni giorno e che considero assolutamente indispensabili qua in Cina. Soprattutto le prime 3-4 di cui ho parlato. WeChat per le chat, per lo scambio di soldi, per i pagamenti. Alipay Eden per i pagamenti soprattutto. Taobao per fare shopping, comprare cose online. E poi ci sono tutte le altre per i divertimenti come Douyin, poi ce ne sono altre come Quai Show, sempre per i video. Tencent Video, Yoku, ce ne sono tantissime. Per le news c'è Tautiao, Weibo, c'è anche Weibo che possiamo definirlo come il Twitter della Cina o qualcosa del genere. Ne conoscete altre che magari mi sono sfuggite, che io non uso neanche, non lo so. Scrivetelo nei commenti. Dovrò fare sicuramente dei video a parte per le applicazioni di cui vi ho parlato all'inizio. come WeChat, Alipay e Taobao perché sono veramente applicazioni che hanno tantissime funzioni all'interno e hanno bisogno di un video a parte. Se ne conoscete altre scrivetelo nei commenti. Se conoscete alcune funzioni in particolare delle quali sarebbe bello parlarne scrivetelo nei commenti. E ci vediamo al prossimo video. Grazie a tutti.